Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 a causa di un incidente si sono formati 3 km di coda in direzione Roma tra Barberino e Calenzano. Sulla Fipili per lavori è chiuso il tratto tra Darsena Toscana Est e Livorno in direzione Mare. Sulla A12 è chiuso fino al 27 ottobre per lavori lo svincolo di connessione della A11 provenendo da Lucca. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in Prunita. Sulla regionale due cassi a restringimento di carreggiata all'altezza del km 270. Chiudiamo con i treni per la presenza di persone estranei lungo la sede ferroviaria. I regionali sulla linea Lucca-Pisa potranno subire ritardi e variazioni. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti.